E vabbè le croci no! Mi vuole scavare l'ampara! La borsa! Oh la signora! Oh la signora! Sargino! Aiutami tu! Il ginocchio! Ragazzi! Non avevo mai pensato di dirlo! Ma oggi andremo contro la suora! No! Nostra suorella! No non voglio andare contro la suorella! Perché se no mi le suona ragazzi no! Bentornati su Friday Night Funkin! Pregate per me! Grazie! Lasciate un like! Oggi andremo a confessarci! Giuro! Non sono stato io a non tirare l'acqua in bagno! L'ho fatto io! Va bene sorella? Potevo iniziare! Ragazzi! Siamo su Friday Night Funkin! Nello! Ho ricevuto una telefonata importantissima! Da parte di un piccolo essere umano! Ovvero Pico! Ma dove l'hai comprata quella pistola? Da Supreme? Da Supreme l'hai comprata quella pistola! Ragazzi! Questo piccolo essere umano! Mi ha detto che l'ho sfigato perché vuole la mia ragazza! E te lo dico! Se mi dici cose non me la prenderò! Non mi capica! Ciao Pico! Quanto tempo eh! Guardi si è fatto la tinta! E pure io! Mi hanno detto che sono tinto! E quindi mi sono fatto la tinta! Vai! Oh! Vedo che si è migliorato dall'ultima volta! E io ho peggiorato! Porca miseria! No Pico! Ti prego! Non mi dare le piccolate! Grazie! Ragazzi sto perdendo! Sto perdendo seriamente! Certo! Ho premuto il tasto sbagliato! Ecco perché sto perdendo! Ah! Adesso si! Pico eh! Ma dimmi un po' Dove l'hai piccolata quella pistola eh! L'hai rubata da un prete! Oh! Non mi sono! Per me del tasto like non posso usarlo! Allora la mia ragazza rimane mia Pico! Non devi capirlo eh! Non lo capisci mai! Ma io sono più forte di te! Quando becco tutti i tasti! Wow! Ti posso chiedere una cosa Pico? Una cortesia? Ma non è che puoi venire chiesa con me che ho paura di quella suona! Perché le suone sono sempre così horror? Ah! 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 Vedo che ti sei levato eh! Dadidas adesso vesti Nike! Ma mi dispiace! Ora ti spengo perché io vesto off-white! Non era voluta! Ok! Ti spengo perché io vesto off-white e tu Nike! Mi hai che fare di allenamento per battermi! Yes! Altro che Nike qua! Molto... Molto soft! Ah! Una serenata! Ma i ragazzi... Ma i ragazzi... Ragazzi... Ha potenziato la sua mitraietta! L'ha fatta diventare... Mega Neon mitraietta! Però ancora è troppo piccola! Mi dispiace! Ok forse... Ok forse forse... Stavo scherzando! Lo stavo scherzando! Lo stavo scherzando! Lo stavo scherzando! Lo giuro! Non volevo farlo! Oh no! Per una! Posso mangiare quello che hai mangiato tu ieri sera? Una fisarmonica mangiata! Ma io come devo batterlo la sua ora? Devo pregare per batterla! Mi sa di sì! Ok! Ragazzi! Oh sì! Se ci manca poco questa volta io vincerò! Perché è piccolo e solo un piccolo bambino! Oh sì! Mi spiace piccolo bambino! Ma che è gogliato una tastiera! Te la faccio gogliare io una tastiera! Apri la robbo! Oh bella! Posso dire una cosa Pico? Dovrei farli però eh! Parole forti! Ah! Troppo forti le parole! Mi sto confondendo! Mi ha fatto vedere il Rolex! Se me lo vuole che ho capito che era vinto! Scusa me lo vuole! Ok! Così si va! Pico! Guarda si sta sciogliendo! Lo sto arrostendo! Oltre che spegnendo! Lo pensavo! Lo pensavo! Don Ciro aiutami tu per favore! Ciao! Suor Claretta! Me le suonerai vero? Con il clarinetto! Questo sarà difficile! Questo sarà difficile! Confessatevi prima di fare questo game! Confessatevi! Wicke Croce! Non sono pronto per il mio funerale! Ma io la faccio la alt! Alto là! Ok! Con calma! Ah! Andiamo! Sarà una grande notte! Terrore! Ragazzi! Vai fidarsi di una suora! Con delle croci in testa! Una croce te la mette qua proprio! Stavi chiamando padre Alfredo per fare la messa? Eh? Te la posso aiutare io? Le messe in conto? No vabbè! Eh! Scusate! Scusate! Eh! Scusate per l'inconveniente! Però siete interessati a farne parte? Bibbibob! No! Non si dicono queste parole brutte in chiesa! No! Ti devo battesimare! Eh? Ti battezzo io! Ti battezzo! Spieghi signora! Qual è il motivo di tutto questo? Ma che è una canzone di chiesa? Tipo quelle che canta mia zia in chiesa! Bella! 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 A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a! Sialode a tutti! E pace e bene! Praticamente questo vi sto dicendo! Potrei far parte Dei cori gospel Oppure mi gol spiscono Ragazzi preghiamo insieme Lasciate un like perché qua Questa suona La sto battezzando io Non lei Che cos'era quella Ok ok normale E vabbè Ma chi ti è cercato a cantare così Allora devo entrare in god mode Pure io Ho sbagliato i tasti Ok i tasti giusti sono Scusate Ragazzi mi sa che l'unico modo È entrare in god mode Non è un momento Per ora andiamo soft Aspetta io Giro a disco al posto della bocca qua Quindi mi sta dicendo che io Che io sto dicendo parole brutte In un luogo sacro Lo sai io che cosa farò con questo microfono Un posto sacrissimo proprio Gro Ho peccato Ho peccato di superbia Non volevo giuro Non volevo Ti prego Dante Non mi fare saltare i denti Ok Ok Così va bene Molto bene Guardate Sta sudando eh Sto mettendo là sopra la sua fede Ok D'altro 93% è una cosa bellissima Ho avuto un lapsus Ho avuto un lapsus scusate Ho avuto un lapsus scusate Non mi devo confondere Non mi devo confondere Perché ancora rimango a Alleluia Alleluia Vabbè quella era Tu sei finalmente arrivato Fratello Come è il mio fratello Scusami per il problema Ruf No Ora mi ruvina Non va bene così Se mi ruvina È un problema It's ok Questa canzone Già la conosco A quanto pare Perché l'abbiamo fatta Su Roblox Poi ho cliccato tantissimi bottoni Prima che io Venissi qua eh Ora credo che sia il momento Di correre via Ragazzi lasciate un like Non mi ruvinare Grazie Ah Ok Zavoladia Ok No mi sto rubinando da so Eh ma lui È un demone È spiritato È spiritato Che bella sta canzone Mi mette carica La mia ragazza È spaventatissima Ok Beccati questa ruba Adesso ti ruvino io Io vorrei entrare nel confessionale Ma non quello della chiesa Quello del grande fratello Ok Stai sudando eh Io pure Le mani proprio Mi stanno ammazzando Yes Ok Oh Aiuto Guardate i capelli Che fine hanno fatto Pa 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 Sono 52 mancate Yes No sta recuperando Sta recuperando Sta recuperando Sta recuperando Sta recuperando Non mi ruvinare Ti prego Ti voglio tanto bene Questo non lo sapevo Questo è proprio zero Pa 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 Oh 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 La sento La sento La sento La potenza Della Godmode E' l'attento alla potenza della cosmo Io sono veramente stanca di questo gatto e di questo topo Ma come di questo gatto e topo? Ma io non sono un gatto Ma lo vedi? I gatti li vedi tinti, eh? Sono blu di cervello Probabilmente Dio ti perdonerà Ha venduto l'anima al diablo Nooo E' diventato una chica mala E adesso che facciamo? Non posso andare contro la sua chica mala La sua potenza è divina Come faccio? 3, 2, 1 Mi vuole scavare l'ampara La mossa Mi si vuole mettere dentro e fare la confin dance Mi scusi un attimo, eh? Non so che lei ha venduto l'anima Però Io ce l'ho ancora intatta Aiuto Che cos'è sta cosa? Ok Posso resistere con questo ciclovampiro Invece no Ok Non riesco a capire Non capisco Fino a qua Ok Va bene, va bene Così tiriamoci Oh Oh Ciclovampiro Anche se metti la tua anima A tuo pochigio Ce la faccio vincere Ok Ok Sì Oh La sto scacciando Questa è la god mod Certo Poi meno Ok 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 Uff Ah Ho sbagliato all'ultimo Mi sono perso non mi devo perdere eh mi confondo quando ce ne sono due ragazzi è troppo difficile così cioè manco scherzi mi vuoi proprio mandare al cimitero i miei capelli sono andati al cimitero ah eh aiuto 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 170 sbagliate non posso superare non posso superare il limite siiii ok ragazzi io direi che questo video su questo gioco non posso anche capire qua vero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla iscrivetevi al canale se lo avete avuto c'è un sacco di pollice in su qua al vostro senso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video eeeh ciao ciao